Buonasera signora, il vostro saluto non deve mancare. Pietro è l'ultima serata? Poi quando ci incontriamo? Noi abbiamo un altro appuntamento, abbiamo un matinee molto interessante il 26 settembre alle 11 qui all'auditorium con la violinista Anna Tifu che suonerà insieme all'orchestra da camera l'Accademia di Santa Sofia e speriamo di avviare con questo concerto del 26 settembre una domenica mattina un nuovo percorso diciamo programmatico che accompagnerà l'attività della stagione nel mese di ottobre, novembre per arrivare poi a Natale con una serie di eventi è anche un nostro desiderio quindi ci fa piacere sentirvelo dire, raccontare dalle vostre labbra lo coltiviamo, è un piccolo sogno, sono sicuro che troverà successo la governance, la governance si sta impegnando molto, l'ha deliberato, certo non l'ho impettato io è un programma appunto che si sta varando proprio per destagionalizzare le attività della fondazione innanzitutto non ci tratteniamo da farvi complimenti per questo percorso che è stato fatto fino ad oggi è un risultato veramente di squadra che ha funzionato molto malgrado la complessità anche delle emergenze e tutto, noi abbiamo ricavato un risultato davvero molto soddisfacente in termini di pubblico, di affluenza e tutto ciò che è intorno a noi lo racconta la squadra sta funzionando molto bene auguri grazie dell'attenzione che sempre ci avete riservato e continuate a riservare accomodate grazie